Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Dopo una preoccupante pausa dovuta a un'emorragia interna causata da due ulcere, il noto rapper Fedez torna alla ribalta. Ricoverato d'urgenza il 28 settembre all'ospedale Fatebene Fratelli di Milano, il cantante ha trascorso giorni di apprensione prima di essere dimesso lo scorso 6 ottobre. Il ritorno a casa è stato festeggiato e condiviso con i suoi seguaci su Instagram, mostrando momenti teneri con i suoi figli, Leone e Vittoria, e sottolineando l'importanza dei controlli medici post-ricovero. Ma la domanda che bruciava sulle labbra di tutti gli appassionati era, Fedez, sarà in grado di presentarsi a X-Factor? La speculazione ha raggiunto il suo picco dopo l'annuncio delle sue dimissioni dall'ospedale, con i fan in attesa, e i media che ipotizzavano possibili sostituti. Tuttavia, le supposizioni sono state messe a tacere il 18 ottobre, quando in una diretta Instagram, il rapper ha annunciato, Oggi sono andato a fare la visita di controllo, e mi hanno fatto il certificato medico per poter partecipare ad X-Factor. Gli appassionati del talent show di Sky 1 possono quindi attendersi di vedere Fedez dietro il tavolo dei giudici al prossimo live. Non solo carriera, ma Fedez ha anche condiviso aggiornamenti sulla sua condizione fisica post-ricovero. Nonostante abbia perso 10 chili nell'ultimo mese, il rapper è determinato a tornare in forma. Ha rivelato che si sentirà abbastanza forte da tornare ad allenarsi dalla prossima settimana, mantenendo una dieta sana. Il supporto e l'anticipazione dei fan per il ritorno di Fedez a X-Factor e sulla scena musicale sono palpabili. Con una tale determinazione, sembra che nulla possa fermare questo artista. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie